Stiamo per accoglierti in una nuova esperienza di calma, cura di sé, pienezza e calore. Di Mora. È un luogo in cui star bene è cosa sacra, che produce tecnologie eccellenti e atmosfere d'incanto per il vostro benessere a casa o in spa, hotel e resort. Siamo un'azienda internazionale con sedi in Italia e in Francia, che produce la più ampia varietà di facility per il benessere a prezzi competitivi, con materiali di qualità e di eccellente durata. Immergetevi nell'atmosfera del benessere più autentico. Vivete l'esperienza di Mora.